Coronavirus, primo caso di variante inglese accertato in provincia di Avellino. A risultare positiva alla mutazione britannica del virus, un'infermiera già vaccinata nel corso della campagna dal Covid Hospital del Moscati. E in giornata sono attesi i risultati dello screening a tappeto effettuato su tutto il personale in servizio nell'area dedicata alla cura dei malati Covid. Ma Gloria Taliani, infettivologa dell'azienda ospedaliera, tranquillizza e spiega la copertura vaccinale difende comunque dalla malattia. La vaccinazione mette in sicurezza il ricevente nei conti dello sviluppo delle conseguenze gravi della malattia. Quindi impedisce che ci sia tutto il corteo sintomatologico e le conseguenze gravi della malattia. Ma non impedisce in modo universale che il virus si possa localizzare temporaneamente e senza creare danni sulle vie aeree superiori. Anche i vaccinati devono continuare a incontrare i mezzi di protezione individuale, le mascherine e mantenere tutte le misure di sicurezza che permettono di limitare la diffusione dell'infermazione. Intanto l'indice di positività in provincia di Avellino scende al 7,2%, altri 108 i casi di Covid segnalati. Ma preoccupa il caso di Montoro, con 13 contagi sui 154 complessivi in paese e a risultare positivo al coronavirus c'è Don Domenico Spisso, parroco di Sant'Eustacchio, Caliano e San Pietro, risultato contagiato con sua madre e sua sorella.